Video numero 7 dedicato agli esercizi di riepilogo sul calcolo delle aree e dei volumi mediante l'uso dell'integrazione. Primo esercizio, considerare la funzione esponenziale y uguale e alla x mezzi, a determinare l'equazione della funzione g simmetrica di f, quindi questa sarà la nostra funzione f, rispetto alla retta di equazione y uguale 1. B. Determinare il punto A in cui il grafico di g interseca l'asse x. C. Determinare l'area della regione finita di piano limitata dai grafici di f, g e dalla retta parallela all'asse y passante per A. Quindi. Bene, andiamo a vedere la richiesta A. Determinare la funzione g simmetrica di f rispetto alla retta y uguale 1. Siamo in presenza di una funzione esponenziale, quindi possiamo anche disegnarla. Diciamo che rispetto alla e alla x cambia poco. Facciamo un disegno qualitativo. Sappiamo che passa per x uguale 0, y uguale 1 e questa sarà la f, cioè e alla x mezzi. Come facciamo a determinare la simmetrica rispetto alla retta y uguale 1? Quindi disegniamoci anche la retta y uguale 1. Questa è y uguale 1. Come prima cosa scriviamo la simmetrica rispetto all'asse x, cioè alla y uguale a 0. Sappiamo che per fare tale calcolo dobbiamo invertire la f, cioè scrivere la meno f. E la meno f sarà, vediamo se riesco a farla ribaltando la curva che ho disegnato. Ecco, questa che ho disegnato è la meno f, cioè la meno e alla x mezzi. Ora, per determinare la simmetrica rispetto alla retta y uguale 1, devo traslarla di due unità, perché qui siamo a meno 1, segniamoci anche questo punto, di ordinata meno 1, dicevo devo traslarla di due unità in alto e quindi per fare ciò devo sottrarre a 2 la funzione inversa, cioè la g avrà equazione 2 meno e alla x mezzi. Facciamolo. ecco, anche l'inversa passa per x, 0, y, 1. Magari facciamola di un altro colore e cancelliamo questa che avevamo disegnato all'inizio. Questa è la curva simmetrica rispetto alla retta y uguale 1 della curva data. Scriviamo che questa è g, che ha equazione 2 meno e alla x mezzi. Bene, abbiamo risposto alla domanda A del problema. Ora dobbiamo determinare il punto A in cui il grafico di g interseca l'asse delle x. Mettiamo a sistema l'equazione dell'asse delle x con la g e quindi y uguale 0, y uguale 2 meno e alla x mezzi. Eguagliamo i secondi membri e otteniamo 2 meno e elevato a x mezzi uguale 0. Questo significa e alla x mezzi uguale 2. Ora facciamo il logaritmo di entrambi i membri, il logaritmo naturale di entrambi i membri e quindi logaritmo naturale di e alla x mezzi uguale logaritmo naturale di 2. Ancora per una nota proprietà dei logaritmi possiamo portare l'esponente fuori dall'argomento del logaritmo e scrivere che x mezzi logaritmo naturale di e è uguale al logaritmo naturale di 2. Ora il logaritmo naturale di e è 1 e quindi x mezzi è uguale al logaritmo naturale di 2. Cioè in definitiva x uguale 2 volte il logaritmo naturale di 2. Quindi il punto A ha coordinate 2 logaritmo naturale di 2, 0. Andiamo a disegnarcelo sul grafico e disegniamo anche la relativa retta per rispondere al quesito C. L'area che dobbiamo calcolare è quella che segno in rosso. Scriviamo l'integrale quindi punto C l'area è uguale all'integrale tra 0 e 2 logaritmo naturale di 2 di f meno g in quanto f è sopra la funzione g in dx. Cioè sostituiamo le funzioni integrale tra 0 e 2 logaritmo naturale di 2 di f che è e alla x mezzi meno g cioè meno 2 più e alla x mezzi in dx uguale. uguale integrale tra 0 e 2 logaritmo naturale di 2 di e alla x mezzi più e alla x mezzi e 2 e alla x mezzi meno 2 in dx. Calcoliamo le primitive dei due termini. 2 è una costante e la scriviamo fuori dalle parentesi che moltiplica. La primitiva di e alla x mezzi è 2 e alla x mezzi. meno la primitiva di 1 in quanto ho raccolto a fattore comune 2 è x da integrare tra 0 e 2 logaritmo naturale di 2 uguale ancora. Sostituiamo gli estremi di integrazione e abbiamo per quanto riguarda 2 logaritmo di 2 2 e elevato a 2 logaritmo naturale di 2 fratto 2 meno 2 logaritmo naturale di 2 e poi abbiamo meno sostituendo 0 meno 2 e alla 0 meno 0 che non scrivo tutto moltiplicato per 2 uguale. 2 e 2 si semplificano e alla logaritmo naturale di 2 è 2 quindi dal primo termine abbiamo 2 per 2 poi abbiamo il meno 2 logaritmo naturale di 2 e poi abbiamo meno 2 per e alla 0 che è meno 2. Questo è uguale 2 per 2 meno 2 e quindi 2 che moltiplica 2 meno 2 logaritmo naturale di 2 cioè 4 meno 4 logaritmo naturale di 2 valore dell'area richiesta dal punto c del problema. Secondo esercizio considerare la funzione f di equazione y uguale logaritmo naturale di x quindi y uguale logaritmo naturale di x è la f. A richieste del problema determinare l'equazione g simmetrica di f rispetto alla retta x uguale 1 quindi b determinare il punto a in cui il grafico di g in terza e calasse y e poi c determinare l'area della regione finita di piano limitata dai grafici di f di g e dalla retta parallela all'asse x passante per a quindi bene come prima cosa vediamo di farci il grafico della funzione y logaritmo di x questa è una funzione elementare il logaritmo di x vale 1 quando y è 0 va a meno infinito per x che tende a 0 da destra e a più infinito per x che tende a 0 da destra e a più infinito quindi possiamo disegnarlo e circa questo questo è il punto 1 dobbiamo scrivere l'equazione g della simmetrica di f rispetto alla retta x uguale 1 quindi la retta x uguale 1 è questa cominciamo a scriverci la simmetrica rispetto all'asse delle y che comunque parallela l'asse x uguale a 1 la simmetrica g rispetto all'asse delle y qui stiamo rispondendo al punto a la simmetrica rispetto all'asse delle y è y di meno x quindi y di meno x è uguale al logaritmo di meno x disegniamocela sfruttando la funzione che abbiamo già disegnato disegniamocela sfruttando il grafico che abbiamo di logaritmo naturale di x ecco questa è la y di meno x poi ora dobbiamo traslare a destra di due unità perché dobbiamo portare il punto meno 1 a coincidere con il punto 1 questa volta non rispetto a y come nell'esercizio precedente ma rispetto a x ciò significa sommare 2 all'argomento del logaritmo cioè la g sarà data dal logaritmo di 2 meno x trasliamo la curva magari facciamola anche questa di un colore diverso usiamo il verde ecco questa la cancelliamo e scriviamo che questa è g la simmetrica alla f che è questa rispetto all'asse x uguale 1 la seconda richiesta del problema la richiesta b è quella di determinare il punto a in cui il grafico di g interseca l'asse delle y mettiamo a sistema quindi l'equazione dell'asse delle y cioè x uguale a 0 con l'equazione di g cioè y uguale logaritmo di 2 meno x sostituiamo 0 in y e otteniamo logaritmo naturale di 2 l'ordinata del punto a questo è il punto a quindi scriviamoci le coordinate sono 0 logaritmo naturale di 2 ora tracciamo la parallela all'asse delle x passante per il punto a e individuiamo l'area che il problema ci chiede di calcolare che è questa che vado a segnare in rosso bene per quest'area dobbiamo scrivere due integrali il primo che va da a quindi da scissa 0 al punto 1 e il secondo che va da 1 al punto di coordinate che indico con b e il punto b avrà a scissa andiamo a calcolarcela scriviamo x di b questa ci serve per l'estremo di integrazione del secondo integrale la scissa sarà data da logaritmo di 2 uguale logaritmo di x in quanto devo appunto considerare la scissa che corrisponde all'ordinata logaritmo di 2 e quindi questo molto semplicemente sarà xb uguale a 2 scriviamoci gli integrali quindi questo è il punto c avremo integrale tra 0 e 1 area uguale di y meno g dove con y ho indicato la retta di equazione y uguale logaritmo naturale di 2 che è sopra la g in dx più integrale tra 1 e 2 sempre di y della retta meno la funzione f in dx uguale sostituiamo i valori e abbiamo integrale tra 0 e 1 di logaritmo naturale di 2 meno logaritmo naturale di 2 meno x che è la g in dx più integrale tra 1 e 2 di logaritmo naturale di 2 e la y meno il logaritmo naturale di x in dx uguale ora calcolo separatamente per parti l'integrale di logaritmo naturale di 2 meno x e del logaritmo di x iniziamo dall'integrale del logaritmo di 2 meno x in dx questo si integra per parti facciamo una tabella di quello che deriviamo e di quello che integriamo deriviamo il logaritmo di 2 meno x e integriamo 1 ricordo che qui consideriamo la funzione integranda moltiplicata per 1 quindi la derivata del logaritmo naturale di 2 meno x è 1 fratto 2 meno x per la derivata di 2 meno x che è meno 1 quindi per meno 1 l'integrale di 1 è x e ora scriveremo l'integrale come il prodotto tra x e il logaritmo naturale di 2 meno x meno l'integrale ma visto che abbiamo un meno 1 diventa più dicevo l'integrale di x fratto 2 meno x e quindi questo è uguale a x logaritmo di 2 meno x più l'integrale di x fratto 2 meno x in dx questo è uguale uguale x logaritmo di 2 meno x qui scrivo meno l'integrale di meno x fratto 2 meno x in dx uguale cosa lecita perché meno meno fa più ora per quanto riguarda il secondo integrale il primo lo riscriviamo così com'è sommo e sottraggo un 2 a numeratore quindi 2 meno x meno 2 in modo da avere una parte del numeratore uguale al denominatore e vediamo cosa succede dx continuiamo qui e otteniamo x logaritmo naturale di 2 meno x meno integrale allora per quanto riguarda 2 meno x fratto 2 meno x abbiamo 1 quindi integrale di dx e poi abbiamo e poi abbiamo meno meno più 2 integrale di 1 fratto 2 meno x in dx uguale andiamo a capo uguale x logaritmo di 2 meno x qui possiamo integrare meno integrale di dx e naturalmente è meno x e qui ora dobbiamo far comparire un meno per avere al numeratore la derivata del denominatore quindi visto che abbiamo messo un meno dentro l'integrale dobbiamo metterlo anche fuori ho preferito fare il passaggio in modo da mettere in evidenza che ora qui abbiamo la f primo di x e questa è la f di x integrale di funzione composta integrale di funzione composta sappiamo risolverlo questo è meno 2 dovremo scrivere il logaritmo del modulo ma in questo caso possiamo omettere il modulo di logaritmo di 2 meno x uguale qui possiamo raccogliere a fattor comune un logaritmo di 2 meno x tra il primo e l'ultimo termine otteniamo x meno 2 che moltiplica logaritmo naturale di 2 meno x meno x ecco questo è l'integrale di logaritmo naturale di 2 meno x passiamo ora l'integrale di logaritmo di x in dx costruiamo la tabella deriviamo sempre il logaritmo di x e integriamo 1 più o meno la derivata del logaritmo di x con fratto x l'integrale di 1 è x e quindi avremo che l'integrale del logaritmo di x è logaritmo di x meno l'integrale di 1 fratto x per x quindi questo sarà uguale a x logaritmo di x meno l'integrale di dx visto che 1 su x per x è 1 e quindi ancora x logaritmo di x meno x quindi a questo punto possiamo scrivere che l'area è uguale a logaritmo di 2 per x ricordo che partiamo da questo integrale qua la somma di questi due integrali e avevamo nel primo e nel secondo il logaritmo naturale di 2 questa è una costante e quindi il suo integrale è logaritmo naturale di 2 per x poi meno x meno 2 che moltiplica il logaritmo naturale di 2 meno x meno meno x quindi più x e questo da integrare tra 0 e 1 più ancora abbiamo il logaritmo naturale di 2 per x che è l'integrale del logaritmo naturale di 2 meno x logaritmo di x più x questo da calcolare tra 1 e 2 uguale uguale logaritmo di 2 quando sostituiamo 1 meno 1 meno 2 logaritmo naturale di 1 cioè di 2 meno 1 e questo è 0 più 1 meno ora sostituiamo 0 e abbiamo logaritmo naturale di 2 per 0 che è 0 e poi meno quindi più 0 meno 2 logaritmo naturale di 2 meno 0 quindi di 2 e quindi possiamo scriverci direttamente meno 2 logaritmo naturale di 2 e poi abbiamo più 0 quando sostituiamo 0 più secondo contributo è logaritmo naturale di 2 per 2 2 logaritmo naturale di 2 meno 2 logaritmo naturale e poi sostituiamo 1 e otteniamo meno e quindi più andiamo a capo meno 1 per logaritmo naturale di 2 quindi logaritmo naturale di 2 meno quindi più 1 logaritmo naturale di 1 che è 0 scriviamocelo e poi abbiamo meno 1 uguale ora qui logaritmo naturale di 2 meno logaritmo naturale di 2 è 0 più 1 meno 1 è 0 meno 2 logaritmo naturale di 2 più 2 logaritmo naturale di 2 è 0 e ci rimangono il 2 e il meno 2 logaritmo naturale di 2 e quindi scriviamo che il risultato dell'integrale e l'area richiesta dal problema è 2 meno 2 logaritmo naturale di 2 bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail instagram facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima